Ehi barista, dacci un goccio. Piano ragazzi, fate piano. Adesso serviamo anche questi pulciosi. Ehi tu, strazione, prendi questa pistola, evitiamo se riesci a colpirmi. E' facile mettersi come un spiegato. Intentalo con nosotros. Ok, adesso è tutto a posto. Grazie ragazzi, e Dio vi benedica. E' che siamo i più rapidi al oeste del Pesco. Grazie. 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 Grazie.